Ciao a tutti ragazzi bentornati nel mio nuovo video Questa è la continuazione del video precedente Infatti ci siamo fermati ai G7 magici E andiamo Siamo arrivati a questo punto Andiamo No, mi ero scordato che qua non si poteva andare Signora, signora si levi Si levi per favore Garbatamente si levi Lei deve andare piano, non deve correre Ultime parole famose Facciamo una speedrun Via Morto al terzo colpo Facciamo che adesso non devo più morire, va bene? Facciamo una sfida Uuuu Di colpo Ah no Non lo sapevo eh, che quello uccidevano Quindi questo non vale come morte Non vale come morte Ok Vedete che Facciamo che iniziamo adesso la sfida di non morire Va bene Va bene Ok checkpoint Io sono bravissimo, guardate Bravissimo Su Roblox Ci gioco da Un po' di anni Non so quanto Però da un po' E quindi lo conosco Tutte le tecniche Conosco Oh la la Queste qua ti uccidono Si Ti uccidono Ho provato Ok Checkpoint Andiamo qui Sorpassiamo questa Pa... Ma... Beh... Parete marrone Era una piccola scioglilingua Quella parete Qua Facciamo Scommettiamo che non muoio Invece Sono morto U Ok Checkpoint preso Questo livello è semplicissimo Vabbè Ti prego fortuna Fai che sia Ho avuto fortunissima Guarda Una fortuna incredibile Ok Uno Due Tre Quattro Pa No Questa Non c'ho avuto fortuna Avanti per me No Così Di Qua Checkpoint Saliamo le scale Se non avete visto la prima parte Andate a vedere Che è già caricata Caricata Scrivete sotto qui Nei commenti Se vorreste Qualche altro gioco Qualche altra serie Se vi piace Roblox O volete che la smetta Se volete che Continui La serie Di funzionalità Della funzionalità delle app E nulla Scrivetemi Anche se voi sapevate Che questa mappa esisteva Che Io non sapevo che esisteva Questa mappa Ok Siamo sul ponte Questi qua ci uccidono Ma anche cadere ci uccide Ok Qua No aspetta Non in mezzo Qua Signori Al primo colpo Cioè In teoria Secondo Però Per modo di dire Al primo colpo Dai che non ci manca tanto Che è là La fine No per là Ok Così Molto facile No Mai dire mai Prendete l'insegnamento Perché Era talmente facile Che ho sbagliato L'ultimo Qua Non so Non bisogna toccare il rosso Ok Invece Io l'ho toccato Perché Continuo ad andare Sempre sul rosso Faccio male Le mire Allora Metto la visuale Dall'alto Che così almeno Sono più sicuro Invece no Facciamo un'altra strada Così Dai Marco Concentrati Sesto senso Concentrati Vai Così 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 Sì Sì Ce l'ho fatta Era un livello impossibile Quello Almeno per me Magari per voi Era una cavolata Scrivetemi sotto Nei commenti Se era semplice Per voi Per me almeno no Anzi dai Ho provato a fare di peggio In livelli peggiori Attenzione a questi neri Vai Checkpoint Si va sempre più vicino alla fine Voglio proprio vedere cosa c'è alla fine Io mi aspetto un bel premio Un bel e grasso premio Questo è un livello semplice Saltiamo il muro Facciamo una scommessa Sto andando tutto di fila Per altri due livelli Vado tutto di fila Scommessa fatta Proviamo anche questo No Questo no Non ci sono riuscito a farlo andare di fila Io preferisco fare Giocare a Roblox Su mobile Telefono Che sul computer Perché sul computer Non riesco a gestire i tasti Ma scusa Non mi ha toccato Ma dai Non vale Vabbè Così Ah Più difficile Vediamo quanto manca alla fine È vicino Spero di finirlo Entro questo video Questa mappa Checkpoint Un Due Ok Checkpoint Salta 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 E salta Uii Checkpoint Preso Tra poco arrivano Le porte Della fortuna Chissà se abbiamo fortuna Dai Dai Spero Almeno per questa volta Dove vado? Destra Sinistra Lasciate Like Per destra Commento Per sinistra Spero che Azzecchi No Qua Avanti No Ma Ma neanche se Pago questa mappa Ci riesco Uh Sta arrivando un altro giocatore Scappiamo 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 Questa qua No Qua è chiusa la parete Tac Tac Ok E qua No ci sta superando quel giocatore Checkpoint No Proprio quando Quando non ci sono giocatori Vado bene Quando ci sono giocatori Che mi superano Sembro Nabbo La sono Giocata Ok Dai non devo sembrare Nabbo Almeno con voi No Può aiuto Solo a giocare Sì Posso farlo anche Oh Ti sei fermato qua Questo è il livello di prima Opla la Al primo colpo Questo Al secondo Volete scommetterci? Opla la Vedete? Questo al primo Scaliamo 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 E ci uccidiamo Vabbè Attenti Sempre vado un centimetro Dal cubo che mi fa morire Sempre Ok Checkpoint Scivolo Manca poco Dai Altro giocatore Quasi è arrivato Cioè È già Tre livelli Per avanti di me Ovviamente Perché io Muoio Per cose Stupide Cioè Anche qua Perché non mi salta? Giuro Disinstallo Questo gioco No Sto scherzando Eh Giocatore di Roblox Non prendetevi Con me Sto scherzando Ve lo sto dicendo Anche Oh Non azzecca Mai una giusta Di qua Ma no Dai Di qua Quell'altra cosa sta facendo? Al contrario Scivolo Qua Ah no Devo saltare qui Saltare perché mi porto indietro Qua Ponte Che sto per rischiare la morte Qua No ma dai Mi mancava una piastrella Una Salta Qua Così Salta Salta Oprala Checkpoint Salta 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 Vai Qua Mi sembra che è facile questo livello Sì Infatti Ok Facile anche questo Questo molto easy Sempre avanti Ti pareva Ti pareva con la mia fortuna Che non Neanche la seconda volta Riuscisse ad indovinare Guarda Così Così Sono salvato Brucio pelo Ok 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 Fatto 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 Facciamo un ultimo livello Perché mi sembra anche ancora lungo Farò la parte 3 Del video Che uscirà subito dopo la parte 2 Questo è ovvio Vabbè non sono spiritoso Ok Ok Ma dai perché L'ultimo livello Dai Oh signora Bello quando muoio Il sonno che fa Ok Io vi saluto Iscrivetevi Lasciate un pollice In su Fate un commento Grazie Dal vostro Sesto Sesto Senso È tutto Da voi Studio